E poi, e poi... Ero troppo strano. Ma, sì, proprio tre volte l'avete fatto. E certo. Minchia. Ma lei urlava di passione. Ah, Nino. Che fa, urlava? Sì, ma non ti distrarre, Nino. Non lo vuoi raccontare, Nino? Ma che è, maffa, tua sorella che balla da sola? Ma sì, lo sai che quella è pazza completa. Raccontami, raccontami i particolari erotici. Ma che ti devo raccontare? Fu una cosa travolgente. E dimmi, dimmi qualche particolare scapproso, scemo. Se mi dai la tua pistola, te lo dico. E va bene, la pistola te la do, però la prossima volta che lo fate me lo vengo a vedere. Ecco che cosa sei. E finisci, là. Un degenerato. E ma dai. Ma guarda questo che mi deve rompere le scatole, lasciami stare. Mi dispiace per te, ma sei proprio degenerato. No, 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 sei un pervertito e basta. E avanti, un minuto. E balla. Ma perché stai così impalato? Mi pare un manico di scopa. E che c'è? Che guardi? Ma tuo padre e tuo fratello pure loro ci fanno le porcate. Cretino, mio fratello è un minchione e mio padre è vecchio. Pure mio padre è vecchio, però c'è un amante a Palermo e uno a Napoli. E uno a Milano, naturalmente. E poi io la sorvegli. Anche adesso la sorvegli, anche quando sei a scuola la sorvegli. Ma va a far più. Tu e quella gran bacca di tua sorella. Ma che è? Che è successo? Chi ha questo picceriggio? Non si sente bene. Qualche cosa che ci fici malo stomaco, povero figlio. Ma chi ha? Temperatura? Febbre? No, una cosa da niente. Una lieve alterazione. Che dici? Chiamiamo il medico? No, non è necessario. Può stare tranquillo, Cavalere. Vedrà che un giorno ti riposo. Non c'è, non è niente. Ma io lo so, queste sigarette sono. Perché io lo so che fumi. Lascia che ti pizzico, caro mio, e poi lo vedi come ti finisci. Nenuzzo, che c'è? Non hai fatto i compiti, vero? Non sai la lezione? Non me lo vuoi dire. Che c'è? Hai litigato con qualcuno? Successe cosa coi compagni? Guarda che io per una volta il gioco te lo reggo, ma tu a me non è che mi imbrogli, sai, altro che alterazione, 36 e 2 c'avevi. Nino, di qualcosa, Angelina. E va bene, signorino, guarda che io allora domani ti mando a scuola anche se c'hai 40 di febbre. Capito? Capito? E va bene, signorino, guarda che io per la prima volta il gioco a scuola anche se c'hai 40 di febbre. Ma che fa, stia? Qui io, no. Che ne vada di là. E perché, Angelina? Sto facendo gli esercizi. Eh, lo so io quali esercizi. Ma pure che c'è qua. Ma che cosa fai? Che sto facendo, scrianzato? Reflessioni, papà, che devo fare? Io lo so quello che cerchi tu. Depravato, degenerato e figlio da porco. Ma papà... Ma mamma! Ma mamma! Ma mamma!